E dobbiamo migliorare, se tu vuoi ambire a parconscienici importanti non puoi andare avanti solo con la qualità, devi migliorare sotto altri punti di vista. Cioè allora io vorrei che un mix tra Bruno e Valoti, allora mettiamo le capacità agonistiche di temperamento, di esperienza che ha Bruno, coadiuvate dalla qualità di, non che Bruno non abbia, però sicuramente Bruno non ha le qualità di Valoti, ma altre qualità. Ma la più grande qualità di un calciatore è assumersi le proprie responsabilità davanti al fatto di non giocare, perché il problema più grande è che un calciatore quando non gioca dà sempre la colpa a qualcuno. Allora quando un calciatore saprà fare un salto di qualità sotto questo punto di vista, cioè io non gioco, è colpa mia, devo fare di più, vuol dire che io devo fare di più e capirà cosa vuole un allenatore, cosa vogliono i compagni, cosa vuole la gente anche. E allora lì un calciatore potrà fare un salto di qualità. Finché pensa a livello egoistico di dare la colpa sempre agli altri, ci sarà poco margine per il miglioramento.